A circa sei mesi dalla sua attivazione, nel giugno scorso, la cardiologia riabilitativa dell'ospedale di Asiago evidenzia numeri in costante crescita, già oltre i 70 i pazienti assistiti con una media di 7 e 9 posti letto occupati. I dati li rende noti l'ULS 7 Pedemontana. Sta andando bene, commenta il dottor Gianluca Toffanin, responsabile del reparto, compatibilmente con le piccole complicanze che possono verificarsi con i pazienti post-acuti e che abbiamo comunque sempre gestito anche in collaborazione con cardiologia di provenienza. Il bilancio è positivo in termini di risultati clinici, ma anche di soddisfazione manifestata dai pazienti. Il merito va condiviso con tutti i componenti dell'equip. Da oggi la cardiologia riabilitativa asiagese potrà contare su una nuova apparecchiatura all'avanguardia, un ecografo di ultima generazione, completo di tutte le dotazioni per eseguire una valutazione della funzionalità del sistema cardiovascolare, frutto di un investimento di oltre 35 mila euro. L'apparecchiatura è portatile e quindi può essere facilmente spostata da un paziente all'altro, consentendo di eseguire gli esami direttamente sul posto letto senza dover spostare il paziente nel laboratorio di ecografia. Questo chiaramente si traduce in un maggior comfort per il paziente, ma anche in una semplificazione del lavoro d'equip.